Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Turbo Daily. Oggi parliamo di titoli americani, la tecnologia è sicuramente al centro dell'attenzione, abbiamo visto le news relative a Twitter che sono arrivate nella notte, ma ci sono stati i risultati trimestrali di Netflix qualche giorno fa che sono stati particolarmente negativi, ebbene nei prossimi giorni arriveranno quelli di Facebook o meglio Metaplatform. Nello specifico l'azienda ha avuto uno dei trend ribassisti più forti degli ultimi anni, è stata un'azienda che ci ha abituato a performance eccezionali in termini proprio di rendimento del titolo, proprio negli ultimi 3-4 anni e nell'ultimo trimestre è andata piuttosto male. Ma andiamo sul grafico per vedere nello specifico quella che è la situazione. Si tratta di un grafico giornaliero dopo i massimi raggiunti quasi in area a 400 dollari c'è stato un crollo, primo crollo con l'ultima trimestrale, sostanzialmente che cosa è successo? I dati hanno deluso le aspettative degli analisti e il titolo è sceso, ora in prossimità della prossima trimestrale potremmo assistere ad un ulteriore movimento significativo, questo potrebbe essere al rialzo o al ribasso. Ora quello che mi ha stupito dell'ultima trimestrale non è stato il fatto che i dati economici non fossero buoni perché in realtà erano buoni ma quello che ha fatto propendere per una correzione è stato il fatto che diciamo si sono persi utenti attivi. Ora secondo me i social network continueranno a prosperare e di conseguenza un ritracciamento dai massimi così significativo può essere una buona occasione di acquisto, tra l'altro i dati sono stati più negativi rispetto a quello che si potevano aspettare gli analisti sostanzialmente perché ci sono stati investimenti importanti significativi nel metaverso per il lungo periodo, ricordatevi che l'azienda ha investito quasi 10 miliardi di dollari proprio per entrare in questo nuovo mercato, quindi la strategia è molto semplice secondo noi Facebook è un'ottima azienda, continuerà a fare soldi in quella che è l'attività core, il PE appunto è arrivato a un livello soddisfacente secondo me è un'ottima opportunità per posizionarsi sul titolo, stop loss abbastanza ampio, target price non particolarmente elevato, vi ricordo che si può operare con i certificati turbo unlimited e di conseguenza potete tranquillamente mantenere la posizione per il lungo termine quindi diciamo anche in un'ottica di investimento sfruttando l'effetto leva. Andiamo a vedere come si fa attraverso il sito investimenti.bnpparibas.it, clicchiamo nella sezione turbo certificati a leva, turbo e mini future e andiamo nella sezione dedicata, qui ho già selezionato metaplatform, abbiamo diverse soluzioni sia al rialzo che al ribasso per poter investire sul titolo, qualora aveste una view diversa dalla mia quindi non di lungo termine rialzista sull'azienda, io nello specifico sono andato a prendere un prodotto che non avesse una leva particolarmente elevata, questo per avere un po' di margine con riferimento al livello diciamo di knock out, quello che annulla, elimina e manda il valore del certificato a zero. Certificato che adesso vale 4,71€ ovviamente non voglio anticipare l'ingresso quindi andiamo in piattaforma e vi faccio vedere che andrò a posizionare il mio ordine a 4€ quindi abbastanza distante dai prezzi attuali, questo perché se dovesse virare al ribasso il mercato o in generale dovessero arrivare vendite su metaplatforms sicuramente potrebbe avere senso acquistare a un prezzo più basso, la leva al momento non è particolarmente elevata aumenterà qualora appunto dovesse esserci una correzione. Andiamo a cliccare sul nostro tasto buy e vedete che il nostro ordine va all'interno del book di negoziazione, sono 250 pezzi per 4€, 1000€ di investimento sui certificati pari appunto a saranno circa 5.000 dollari di esposizione nel momento in cui entreremo a mercato. Andiamo quindi infine a vedere quelli che sono i livelli operativi che ho scelto su metaplatforms, entreremo long da 179 dollari, stopperemo la nostra posizione a 159 dollari per azione, per quanto riguarda invece il target price lo andiamo a posizionare a 215 dollari per azione. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento. Alle prossime puntate.